Siamo noi che dobbiamo educare i nostri figli. Qualcuno dice, eh no, ci dovrebbe pensare la scuola. E sono i professori che dovrebbero fermare il bullismo. Ma perché i nostri figli vengono picchiati e il professore non dice niente? Perché? Perché l'hanno chiuso nell'armadio. E poi il bullismo c'è sempre stato, purtroppo. Adesso se ne parla di più, ma c'è sempre stato. Mi ricordo quando ero a scuola io, che l'ho subito sulla mia pelle, messo in un angolo, che sono arrivati i tre bulli della classe a fianco, che era una terza, io ero in prima, che mi hanno spinto, mi hanno sputacchiato addosso. C'hai paura? Sì, sì, che cazzo di domanda fai? Allora ti aspetto fuori. Ma ti ho detto che ho paura, che cazzo? Ehi, ti aspetto fuori. Io lì l'ho guardato e ho detto, non ti conviene. Perché? Perché non esco. Che cazzo? Cioè, non esco. Io mi sono chiesto, ma dove nasce un bullo? Come si forma un bullo? Dove? A casa. Purtroppo a casa, in famiglia. In famiglia per due fenomeni fondamentali. Il primo è l'apprendimento pregresso. Cioè il bullo a casa vede la violenza, probabilmente dal papà la vede in casa, e probabilmente la subisce lui, la vittima. E poi c'è il passaggio due, il sentimento e la voglia di rivalsa, cioè la voglia di vendetta. Capito? Uno che è stato umiliato si vuole vendicare. Che io lo capisco, questo povero bullo che ha subito e le ha prese, che abbia voglia di vendicarsi. Ma io dico, ma aspetta, quando diventi grande, mini tuo padre. Non che mi rompi coglione a me, che non c'entro niente. Capito? Invece no, con chi se la va a prendere il bullo? Con quello più piccolo. Magari con quello ciccione, con quello più indifeso. E l'omeno. Ma io dico, ma allora, se ce l'hai il potenziale, che sei bastardo dentro, se ce l'hai la cattiveria, metti la frutta, non picchiare con lo sfigato. Vai a picchiare un altro bullo come te. Capito? Un altro bullo, magari anche più cattivo. Così vi fate i lividi tra voi due, e andate a casa con i lividi dei vostri genitori bulli, vedete i lividi, vanno a picchiare il papà dell'altro bullo, e si scatena una faida tra famiglie e bulle, tra due stati bulli, dove alla fine vi estinguete e non rompete i coglioni alla gente per bene.